E quindi questo sarebbe quello che è diventato Fortnite oggi? La prima mappa di oggi è questa qui signori, stiamo parlando di una mega room, una mega stanza gigante incredibile in cui puoi fightare con altre persone È stata realizzata ovviamente con la nuova Creative 2.0 che sarà proprio il fulcro di questo video Sì ragazzi, Fortnite è cambiato e sta cambiando ogni giorno di più Questa stanza è clamorosamente divertente secondo me finché non moriamo probabilmente Adesso proviamo a fightare con qualche nemico e vediamo se riusciamo a killare qualcuno Mi raccomando però prima di iniziare con il video ci tengo a ricordarvi di iscrivervi al canale e ovviamente lasciare un mi piace Ma questo penso che fosse scontato, comunque non abbiamo preso delle armi per nulla giuste, anzi abbiamo preso, ok Abbiamo preso delle armi orribili ma ce l'abbiamo quasi fatta Wow, prima kill andata ragazzi Oh, altro nemico Eh ragazzi, come lo killo quello che non ho niente Cavolo, forse prendere armi a caso non è stata una delle migliori scelte Però regà, devo ammettere che Fortnite così ci piace È davvero davvero bello E possiamo farlo fuori con il pompa regà Eh vabbè, ci ho provato Eh ragazzi, quando vi dico che Fortnite è arrivato al livello estremo È perché è arrivato letteralmente ad un livello estremo Siamo in una mappa in cui ci sono tutti i veicoli del gioco ragazzi Qualsiasi veicolo che possiamo scegliere è presente in questa mappa E la cosa più bella è che la mappa è quasi Sì, perché faccio l'uso? Dico, la mappa è quasi infinita Regà, è incredibilmente vasta adesso Non si vede perché è buggata Ma scegliamo uno di questi nuovi veicoli che sono velocissimi E andiamo, regà Semplicemente andiamo Prendiamo il 2 per lo speed qui E si va Ragazzi, ce la scegliamo così In un paesaggio glamoroso Con delle colline, con degli alberi Ecco, magari evitiamo di ribaltarci Anche se stiamo andando tipo velocissimi Ed è divertente Cioè, è figo, regà Non è utile Perché non potete fare assolutamente nulla in questa roba Però, regà, è bello Cioè, potete semplicemente girare con la vostra macchina Farvi i cavoli vostri Rilassarvi Ascoltare un po' di musica Non lo so Potete fare di tutto Comunque, regà Devo dire la verità Questo Fortnite mi piace come Scrivete nei commenti qual è la vostra mappa preferita di questa Creative 2.0 Avete già trovato una mappa che vi piace particolarmente? Beh, fatemelo sapere nei commenti, regà Perché sono davvero, davvero curioso Bellissimo che si possono prendere qualsiasi tipo di veicolo, poi Cioè, io posso prendere letteralmente un elicottero E andare dove voglio, ragazzi Cioè, posso fare davvero, davvero quello che voglio E questa roba è troppo bella E divertente, soprattutto Beh, la mappa non è enorme C'è un Jonesy statua che non avevo notato Va bene così? E comunque, la mappa è davvero, davvero grande Non è enorme Perché non penso possano fare una roba troppo grande Per via dei limiti della memoria della mappa di Fortnite, ragazzi, purtroppo Però diciamo che è fatta bene Ci piace Signori amanti delle Detran So che a voi piacciono Lo so che ti piacciono le Detran Beh, sono piaciute anche a me, ovviamente Ma qual è la particolarità di questa Low Poly Fun Run? È che è fatta interamente nella nuova Creative 2.0, ragazzi Infatti si può vedere dalle costruzioni che sono molto, molto ambigue Ecco, sono già morto Al primo livello Al primo salto Bene, non è una delle mappe che mi piace più particolarmente fare Perché sono scarso, ok? Però l'obiettivo, ovviamente, è quello di Non morire come sto facendo io Ma completare la Detran L'unica cosa bella è che, appunto, non è la classica Detran Con gli ostacoli di Fortnite I classici ostacoli di Fortnite Ma è completamente personalizzata Con la Creative 2.0 E questo rende davvero queste mappe uniche, regà Io non so se voi avete già provato la Creative 2.0, ragazzi Perché ho scoperto che non tutti l'hanno provata ancora Io vi consiglio di affrettarvi a provarla Cioè, se avete disinstallato il gioco Ristallatelo e provate questa Creative 2.0 Perché rimarrete probabilmente senza parole Ecco, rimarrete senza parole anche quando cadrete 377 volte al primo livello Poi facciamo anche una cosa Facciamo capire a Fortnite chi comanda E inseriamo tutti quanti Dico tutti quanti quelli che stanno guardando questo video Il codice Lollopollo all'interno Del negozio oggetti di Fortnite Mi raccomando Facciamo vedere a Fortnite quanto siamo forti E vediamo se riusciremo a costruire anche Una mappa in Creativa 2.0 anche noi Bene ragazzi, se siete paurosi Uscite, ok? Schippate un po' il video Andate alla prossima mappa Non lo so, non lo guardate Perché vi dico che siamo ufficialmente Nelle backrooms, ragazzi Guardate la qualità della luce E io ho la grafica al minimo La metterei al massimo Ma poi mi lagga tutto Proviamoci per un esperimento Ma ragazzi Mi esploderà il PC Andiamo nelle impostazioni E andiamo ad aumentare tutto al massimo Ragazzi Ombre, illuminazioni, riflessi Distanza visuale, texture Tutto quanto, regà Tutto quanto al massimo Tutto quello che possiamo mettere L'abbiamo messo al massimo Inizierò a laggare Ma voglio vedere il gioco Oh, madonna mia, regà Lagga tutto Però è bellissimo Peccato che non possiamo giocarla così, regà Perché sarebbe davvero stupenda Cioè, ci potrei pure provare Ma lagga troppo, regà Fermi Beh, forse quando comprerò un computer Della NASA, ragazzi Riusciremo a vederla in quel modo Che cos'è questa luce Dobbiamo passare qui da queste parti Mi sa, c'è un passaggio Non lo so, ragazzi Non sto capendo Vabbè, seguiamo il tunnel, forse No, non dobbiamo seguire il tunnel Perché è tutto scommi Oddio, è esponato un player Dove va? Ah, ok, c'è C'è della... Ok, ho una torcia Figo E... bello Molto bello e pauroso, ragazzi Soprattutto adesso che è mezzanotte e venti Direi davvero un orario perfetto Per giocare a delle backrooms Così realistiche Io ho paura di quello che potranno creare Con la Creative 2.0 Considerando che questa roba L'hanno creata in qualche settimana In qualche giorno, ragazzi Guardate qua Che brutto No, regà No, no, no È davvero tanto paurosa questa roba Io non so chi di voi Soffre di questa roba Ma io... Sì, questi ambienti Mi urtano Parchi giochi abbandonati Piscine Con scivoli d'acqua Tutto, tutto uguale Regà, è davvero orrenda Questa sensazione Oh mio Dio Vi giuro su quello che volete Qui c'è anche una stanza Oh mio Dio Regà, ma dove siamo? Ma qui si può uscire almeno? No, è luce Basta Ma ragazzi Questa mappa Mi sta facendo male alla testa Dove sono? Dove sono ragazzi? Ma io mi sono perso Ok Proviamo ad andare al piano di sopra Vediamo se c'è qualcosa qui ragazzi Ovviamente con molta calma Perché non abbiamo fretta noi Non abbiamo assolutamente fretta di salire A scoprire cosa c'è in un posto buio E pieno di Diastrelle Tutte uguali Il nulla Ok Direi meglio Direi molto meglio Che non c'è nulla E invece di qua Sempre piscine Ok Oh Cos'è quel coso? Un parco giochi Ok Quello è più carino Ci sono le luci Quello è carino ragazzi Dai Oh Un nemico Ok Oh Sono caduto in una ciambella ragazzi Va bene Non faccio domande Voglio andare al parco colorato Fermi tutti Dov'è il mio parco? Mamma mia Ok Bello ragazzi Bello Il parco è oggettivamente bello ragazzi Adesso non so se è funzionante Ma sarebbe fighissimo Cioè se tipo io salgo E mi fai fare lo scivolo d'acqua Sarebbe da Lo posso fare? Vabbè Più o meno Più o meno L'animazione non è incredibile Ma si può fare Si può scendere Dallo scivolo D'acqua Figo 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 ragazzi Beh che dire Queste backrooms sono così Carine E coccolose Proviamo a salire Oh che cos'è questa roba? Ok possiamo disabilitare la modalità party Così le luci torneranno ad essere Spente Ok Così è ancora più brutto No 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 ragazzi Io basta Io quinto questa mappa ufficialmente Questa mappa creativa è bonus ragazzi Guardate qua che cosa hanno creato Lo so Può ricordare una scena particolare Ed effettivamente lo è Questa scena particolare per fortuna poi è interrotta dal nostro Mitico john pork ragazzi Non so chi di voi conosce john pork Fatemelo sapere nei commenti Lo conoscete john pork Vi è arrivata qualche sua chiamata per caso Comunque vabbè Mappa molto molto ambigua questa Ci sono sicuramente tantissime altre mappe da provare Ma per oggi ne abbiamo viste Tantissime super divertenti Super strane Paurose E alcune anche carine Mi raccomando Ricorda di inserire il supporto a un creatore lollo pollo E noi ci vediamo domani Con un nuovissimo video di fortnite Minecraft o chissà qualche altro gioco Ciao ciao